Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi, primo febbraio. Insomma, le notizie della giornata sono un po' economiche, un po' di politica estera, sta prendendo una piega diversa la questione della 18, del processo e della Sea-Watch. Qua spegniamo almeno la suoneria perché fa casino. Allora, intanto la cosa più divertente secondo me che sono fissato sulle questioni di politica estera riguarda il Venezuela e l'inutile Mogherini. L'inutile Mogherini sarebbe il nostro rappresentante, l'altro rappresentante europeo per la politica estera, una che conta quanto il 2 di picca in politica estera, ma che ha cercato di mettere i 27 paesi intorno a un tavolo, secondo le croniche oggi dei giornali, per prendere una posizione unica rispetto alla vicenda venezuelana in cui ci sono due presidenti, Buongiorno Susanna, un presidente maduro e dittatoriale e un altro presidente che si è, Buongiorno Annello, che si è autoproclamato presidente in maniera ovviamente irrituale come spesso avviene nei paesi in cui ci sono le dittature e ovviamente è difficile usare il fioretto. Aug, Giorgio. Allora, che cosa succede? Che gli eurodeputati del Movimento 5 Stelle sono molto contrari all'idea che l'Europa sia e appoggi le risoluzioni di elezioni da fare presto in Venezuela e oggi di Stefano, che è il sottosegretario agli esteri, Agostino, Buongiorno, che cosa ha detto? Ha detto che rischiamo una nuova Libia. Beh, ecco, sulla nuova Libia ci sarebbero tante cose da dire, poi andremo sulle questioni politiche. Prima questione da dire sulla Libia. La Libia lì ci fu un attacco francese senza nessun coordinamento nei confronti di nessuno. Mitico Flavio, lo vedo e lo saluto. Primo, sulla Libia non ci fu nessun coordinamento con alcun altro Stato, se non le bombe dei francesi, dei mirage francesi. Secondo, in Libia appunto si fece una guerra e si ammazzò un dittatore e in questo ovviamente ci poteva essere una somiglianza rispetto al Venezia di Maduro. Ma lì ci fu una guerra, una guerra fatta dalla Francia senza accordo internazionale. Qua ci sono due elementi diversi. Il primo è che non mi sembra che si sia deciso di buttare le bombe su Venezuela. Secondo, non si vuole fare una roba da soli, ma si mette l'Europa tutta quanta insieme e l'Italia non è nell'Europa. E poi terzo, che è la questione fondamentale, è che la rottura del piano libico ha creato un grande problema per tutta l'Europa. La rottura del piano venezuelano ovviamente per l'Europa ha un peso relativo, se non per i tanti italiani che vivono in Venezuela e che dovrebbero mettere il nostro governo un po' più sull'attenti rispetto a quello che ha fatto questo delinquente di Maduro e prima di lui Chavez, tanto amato anche della nostra sinistra. Perché l'altra cosa, ed è quella politica che mi diverte, è che in questo momento non sono soltanto i grillozzi alla Di Stefano a stare tranquilli sulle risoluzioni del Parlamento europeo contro Maduro, ma anche una parte del PD, il che è naturale perché la sinistra è quella più sciavista, cioè il grillozzo sinistro è sempre vicino a Maduro, ma la sinistra è l'originaria creatrice del mito della sinistra marxista, caraibica, Chavez, Castro, quella roba lì. Non nasce da Di Battista, non nasce da Di Stefano, Di Battista e Di Stefano sono i pigoni di una tradizione della sinistra orrenda che parte dagli anni Sessanta e si trascina fino ai cretini di oggi. Insomma, quel poster non è il panto del Movimento 5 Stelle, ma è della sinistra che oggi di fatti è divisa. Mi stupisce, diciamo, relativamente, che l'Italia quindi non prenda una posizione contro il dittatore comunista. Il Governo appoggia il dittatore comunista a titolo al giornale, diciamo una parte del Governo, non tutta. Seconda questione, seconda notizia di giornata riguarda l'Italia in recessione, l'aveva detto Conte, vi ricordate nella segna di stampa di ieri l'avevamo detto, meno 0,2% secondo l'Istat Cottarelli sulla stampa fa i calcoli della serva e cioè dice se il terzo trimestre è fatto meno 0,1, il quarto ha fatto meno 0,2, il terzo ci può essere magari una piccola ripresa, il secondo pure, insomma il terzo e il quarto trimestre per poter far chiudere l'anno a una crescita dell'1% devono essere al 4% di crescita, per motivi aritmetici sostiene Cottarelli e dunque dice la previsione di crescita del PIL dell'1% di questo Governo è fantascienza, fantascienza derivante dall'impossibilità che avremo di fare crescite così importanti nel terzo e quarto trimestre perché non è mai avvenuto. Dall'altra parte, la domanda che tutti si pongono, i 13 miliardi che ha posto questo Governo per reddito di cittadinanza e per pensioni a quota 100 potranno ridare un po' di crescita a questo Paese? La mia risposta personale è no, io oggi per il giornale vorrei scrivere per quale motivo i Governi non fanno quello che sulla carta tutti dicono di fare, ormai tutti, anche noi che guardiamo la zuppa e che non abbiamo mai fatto una lezione di economia e ci dicono investimenti, investimenti, ma se fosse così facile fare gli investimenti e far crescere il PIL perché non li facciamo? Beh, ci sono tanti motivi e le vorrei spiegare sul giornale oggi, ma il punto politico oggi più divertente, caro Pina, grazie per i complimenti, è che si rimpallano le responsabilità, il passato Governo e questo Governo. Renzi dice su tutti i giornali con noi 14 consecutivi trimestri di crescita economica, dice Renzi, cosa vera peraltro perché sono 14 trimestri con cui governati dalla sinistra che hanno visto la crescita del PIL, ma Di Maio dice invece che quello che noi oggi subiamo è colpa proprio del Partito Democratico. Beh, c'è una legge molto chiara nell'economia per cui gli effetti delle politiche economiche non sempre si dispiegano esattamente quando vengono fatti, si chiamano leg temporali, quindi se io faccio una cosa oggi ci mette un po' per avere un effetto nell'economia perché l'economia poi tutto sommato è fatta dal comportamento di milioni di persone che non si adattano immediatamente a uno stimolo o a un danno economico. Ma è anche vero, buongiorno a Luca che ha fatto dei pezzi bellissimi per Quarta Repubblica, un'altra cosa che dice molto bene oggi Francesco Forte, un economista che ha la sua età ma che è di un'intelligenza sempre straordinaria sul giornale, è perché sta andando male l'economia in questi ultimi due trimestri, perché non perché stia diminuendo l'export, cioè non dipende tanto dalla decrescita che i paesi europei e mondiali stanno segnando, in particolare la Germania, ma l'economia italiana sta andando male perché consumiamo di meno e se consumiamo di meno sostiene Forte e anche per quell'incertezza, l'aumento dello spread, l'incertezza di quello che vuol fare questo governo che una certa classe media ha sentito con questo governo. Quindi, dice Forte, in realtà la colpa di questi minori consumi deriva dal governo. C'è la risposta del governo che invece dice vedrete quando arriveranno redditi cittadinanza e quota 100 quanto consumeranno di più. Il tempo, che in genere è molto tenero nei confronti di una parte di questo governo guidato da Franco Becchisi, invece in questo caso è durissimo, perché che cosa dice? Il tempo oggi ce l'hanno fatta! Decrescita felice! In realtà la decrescita c'è, felice non lo so, perché i dati della disoccupazione, dice il tempo, in realtà dicono che c'è il massimo dell'occupazione da 4-5 anni a questa parte, cioè il massimo di persone che lavorano, ma quindi se ci sono tante persone che lavorano bisogna vedere quante le persone che cercano il lavoro, cioè i disoccupati, che anche loro sono a dei livelli molto alti. Quindi in realtà i dati sono tutti quanti equivoci, ma il punto fondamentale è che se il PIL scende, la decrescita felice di cui teorizzava o vareggiava, dico io, alcuni economisti del Movimento 5 Stelle, è lì pronta. La stampa la mette diversamente, con una foto in prima pagina ce l'hanno tutti quanti gli altri giornali, cioè la storia di Alessi, che è una grandissima azienda del design italiano, ve le ricordate tutte le cose della cucina di Alessi e non solo, insomma hanno sempre avuto un gusto e un intuito favoloso, il classico made in Italy. Beh, insomma è in grande crisi, buongiorno a Domenico che ci sta guardando solo ora, e in grande crisi è la tesi della stampa in questo reportage delle pagine centrali, e che è la crisi della classe media, cioè quella classe media che voleva degli oggetti per la cucina, dico io, insomma fichi, cool e che avrebbe anche speso qualcosa di più per comprarsi il cavatappi purché esso fosse di particolare design. Ecco, questa roba qua è finita perché la classe media si è impoverita, consuma di meno e le società che quello producevano ne hanno pagato le conseguenze. Un lento declino della classe media. Da ridere, come spesso avviene oggi, se non da piangere, il fondo di travaglio, che con chi se la prende? Con Salvini. Salvini non sa governare e neanche ci prova. Non lo so se Salvini non sa neanche governare. È tesi apodittica di travaglio, cioè che su tutte le questioni di politica estera e di politica interna, scusatemi, Salvini fa soltanto show, ma in realtà non sa governare. E' esattamente la critica che fanno i Renziani, che l'altro giorno invece lui attacca ad alzo zero. Sala, il sindaco di Milano, scrive una lettera alla Corriere della Sera sostanzialmente sostenendo e spiega che significa decrescita tecnica. Mi chiede qualcuno, beh insomma la decrescita vuol dire che ci sono due trimestri consecutivi, cioè per sei mesi, che il PIL invece di crescere diminuisce, banalmente questo, poi dopo i prossimi mesi potrà succedere qualsiasi altra cosa, quindi la decrescita, la recessione tecnicamente e quindi PIL che invece di aumentare diminuisce. Spero che sia stato chiaro. Poi quanto il PIL sia significativo, quanto misura la nostra ricchezza, quanto noi si soffra per il PIL è un altro discorso, ma comunque la decrescita c'è. Sala, dicevo, con una lettera scrive al Corriere della Sera che non vuole l'autonomia della regione Lombardia, ve la faccio semplice. Milano non vuole farsi mandare dalla regione, perché il timore è che Milano, che è il 10% del PIL italiano, viene considerata e soprattutto una delle zone in cui si vive meglio in Italia, quella Milano vuole essere una città non governata dalla regione, ma probabilmente governata dal mondo. Non lo so, secondo me la forza di Milano, e forse Sala è bene che non se lo dimentichi, che è inserita in una regione in cui ci sono queste montagne, in cui ci sono l'agricoltura che funziona, in cui ci sono l'arte, la cultura, e in cui la regione ha costruito un sistema sanitario la cui delega l'ha avuta la regione degli ultimi anni e di istruzione, devo dire, decisamente buona. La regione Bergamo, Brescia e non solo, e tante altre città che fanno di Milano la grande Milano di oggi. Va bene, io direi che per oggi è il tutto, mi rendo conto, non divertentissima, ma insomma io vorrei andarmi a prendere un po' di neve. Vi do un appuntamento, come sempre, sulla zuppa di domani e sul sito nicolaporro.it. Oggi esordisce sul sito nicolaporro.it un nuovo collaboratore di cui sono orgogliosissimo, Marco Gervasoni, è un professore della LUIS che scrive di politica internazionale, oggi ci parla della Brexit, ma vedrete, nelle prossime settimane ci stupirà, come tanti altri collaboratori, per la bontà delle sue analisi. Ciao.